Oggi vediamo una panoramica delle istruzioni che fanno parte del C, quindi dei comandi che abbiamo a disposizione e come vengono classificati, quindi di che tipo sono, prima di iniziare a mettere le mani nel codice. Iniziamo subito. Ora stiamo per iniziare una sezione in cui tratteremo le istruzioni per il controllo del programma. Quindi questo ovviamente è qualcosa di molto importante perché ci permette di creare programmi che non sono semplici sequenze di operazioni che vengono eseguite dall'inizio alla fine, come quelle che abbiamo visto finora, ma che prevedono delle diramazioni, quindi possono essere prese delle decisioni, possono eventualmente eseguire del look, quindi tornare da capo e quindi implementare, realizzare dei comportamenti complessi, quindi degli algoritmi. Il C, l'ansi C, va a definire una serie di gruppi per le istruzioni. Abbiamo le istruzioni di selezione. Queste sono quelle che permettono di fare delle scelte. In particolare abbiamo l'if e switch. Poi abbiamo le istruzioni di iterazione, che permettono di ripetere delle operazioni. Qui ne abbiamo varie, quelle previste dal C sono il while, il for e il do while. In questo modo possiamo creare dei loop, quindi ripetere gruppi di operazioni. Questo tipo di ripetizioni sono di due tipi, come magari già sapete, cioè quelli che prevedono un certo numero prefissato di ripetizioni e altre che vanno avanti finché non si verifica un qualcosa, quindi una condizione di termine, come il while e il do while. Abbiamo poi le istruzioni di salto. Si sa che non è buona cosa eseguire dei salti all'interno del codice, però ce ne sono queste istruzioni. Adesso ve le elenco. Sono per esempio la break, poi abbiamo continue, poi abbiamo la famigerata go to e return. Allora, di queste effettivamente la go to, quella un pochino famigerata, mentre break, continue e return le usiamo normalmente per scrivere il codice. Quindi sono istruzioni che permettono di eseguire dei salti, quindi di abbandonare il punto di esecuzione per tornare o spostarsi da qualche altra parte. Abbiamo poi le etichette. Le etichette lavorano a braccetto, di solito o con il go to o eventualmente negli switch troviamo per esempio i case. Quindi abbiamo i case e i default legati agli switch. Poi abbiamo le istruzioni di espressione. Quindi qua è qualcosa di più generico. Sono quelle istruzioni che vanno a formare un'espressione valida in C. Quindi per esempio quando scriviamo una variabile, una dichiarazione, una definizione. Infine abbiamo 6, i blocchi. Le istruzioni a blocco sono semplicemente formate da dei blocchi di codice, quindi quello che viene racchiuso tra le due grafiche. Quindi questa qua è la panoramica teorica che riguarda tutte le varie istruzioni che fanno parte del C. Un'ultima cosa importante, adesso inizieremo a parlare delle condizioni di test, quindi degli if. Questi sono legati al concetto di verità e falsità, true e false, che in vari linguaggi vengono indicati in vario modo. Ci sono dei linguaggi che hanno proprio delle parole chiave che corrispondono a true e false. Nel C non troviamo questa distinzione e semplicemente andiamo a valutare un valore numerico. Quindi il valore vero corrisponde per il C a qualsiasi valore diverso da zero. Quindi è vero ogni cosa che è diversa da zero. Mentre il falso è zero. Quindi ogni valore pari a zero è uguale a falso. Quindi se noi dobbiamo fare un test e abbiamo un risultato numerico, possiamo usare questo risultato numerico come valore booleano. Quindi se è zero, ritornando zero abbiamo false, altrimenti ogni altro numero viene interpretato come vero. Questo qui è un pochino differente da molti altri linguaggi, quindi dà molte possibilità di espressione anche non proprio scontate. Una lezione teorica per oggi, spero non vi abbia troppo annoiato, però anche sapere un po' come le cose sono disposte può aiutare anche a fare ordine e a prendere meglio i concetti. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao! Ciao!